Per il momento chiacchiericcia 1.75, mezzo meccanico in movimento. E siamo alla quarta del convegno. A metà della piegata, allineamento che va quasi a completarsi. Un po' arretrato, Rio di Roberto, imitata da Pylor, numero 2. Via la macchina. E mi sa che lo sento, lo sento, sento, super partenza. Su Saxa S rinviene Rio di Roberto, rinviene alla grande, Plutone Jet. Il 3 a tabellone. Cavali che affrontano la piegata, va via diritto di Nardo. 13,9 freeway, con un po' di spesa per il Rio di Roberto, che ha il completamento della piegata e ha il comando. Se ne vanno i primi 400, un quarto di miglio, nell'ordine del 29,4, amministra ora i birilli e ne approfitta Perfect Leader, anticipato da Nasdaq. I due tentano la risalita. Intanto Siento non si fa bloccare, sposta. 44,6 sarà un classico freeway, probabile per Siento. E vediamo un po'. E infatti Siento si presenta, bussa il ragioniere, sopravanza l'avversario, passa Siento. Mezzo miglio, un minuto e qualche virgoletta da 1,15 e mezzo. Il 2 a tabellone, il favorito al comando. Si va di fronte, il Felix del Nord, va a timbrare il chilometro, in 1,14,8, 14,5 di frazione. 500 alla meta, Siento, sempre a comandare do operation. Avali che affrontano la curva finale, allunga disinvolta Siento, si vuol far sentire Siento. 14,1 fanno 1,28,9, tre quarti di miglio. Si completa l'ultima curva, con Saksa S che tenta l'aggancio. Ma Siento allunga, scappa via il ragioniere. Saksa ci prova, ci prova anche Plutone. Siento, regge Siento. Mi sa che non c'è più tempo. Non c'è più tempo. 7,6,9. 7,6,9. 1,58,6, 1,14,1. Siento, Siento, e come lo siento, Romeo Gallucci, alla grande. Quindi per i numeri 7,6,9, 1,58,6, 1,14,1, 1,81 in chiusura. Questo è il probabile e ufficioso arrivo. E i numeri sono questi. Lineo allo studio. Grazie. 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 Grazie a tutti